Buonasera, addirittura sono in griglia adesso, più di così praticamente siete in pista. Sta iniziando a piovere, quindi sarò breve e coinciso. Oggi avete visto tutti com'è andata, ma mai alla mi piove una tastiera. Avete visto tutti com'è andata, abbastanza bene direi. L'obiettivo di domani, adesso parto quindicesimo, siamo andati abbastanza bene, abbiamo migliorato la situazione e per domani partiamo davanti a viaggi, incredibile, abbiamo avuto problemi però io no. Vediamo un po' come va, io sono pronto, spero di riuscire a fare un bel risultato perché i ragazzi del Team ce l'ha meritano, io credo anche, vi devo fare i baffi. E basta, sta iniziando a piovere e domani vediamo un po' come va. Per i ragazzi dell'Expan spero che presto facciamo la chat e la videoconferenza online perché ho visto che funziona, c'erano più di 50 persone oggi, anche se era sabato sera, quindi per le prossime gare è da fare. La c'è la mia moto, dietro al palo, credo che sta lavorando e basta. Un saluto da Miller Motorsport Park, vedete faccio una panoramica veloce, vedete che sta arrivando l'acqua, speriamo non piova domani e basta, ciao un saluto a tutti e a domani.